Musica E' partita anche la Colombia in pedale a liquida a Schenolden Sessione ultime pedalate per l'Androni Giocattoli Mi rio il tempo assoluto, concludono in 18.32 A Beruano, signor Presidente dei Marchi, a Berco Sorani, anche in 18 Si è messo così da altre sedi che prendono i colori Si è questa rappresentativa con carroccia, con te, con Soa Saranno tagliati da Massimo Pieroni, indagatori, giocattoli Berardi, De Marchi, Soa, Rodriguez, Rubano, Sella, Terza, Perez e Fizioso Mi trova fredosa per la squadra 5-6 Diego Ulissi, miglior giovane, portacolori della Lampra ISD E si raggiunga Manu Delessi, della Colnega CSF e della Trattoria Ha ritenuto la maglia rossa, unicredit simbolo del primato della settimana internazionale Grazie a tutti Grazie a tutti